A Monelletti una vittoria importantissima, dopo tre quarti d'ora però probabilmente non ci credeva nessuno. Sì, ormai è il marchio di fabbrica, è una vittoria importantissima, abbiamo fatto fatica contro una squadra che ha giocato molto bene stasera, abbiamo fatto fatica all'inizio probabilmente perché non avevamo numeri da studiare, perché hanno giocato con una formazione inedita e questo ci ha messo molto in difficoltà purtroppo. Poi pian piano siamo riusciti a prendere un po' le misure e tornare a esprimere il nostro gioco e è arrivata questa vittoria per noi fondamentale. Dopo l'infortunio di Sberto di Milano ha avuto un momento in cui è calata, poi però è stata molto brava a riprendersi, voi lì però qualche colpa ce l'avete? Sì, sicuro, sappiamo che quando si è nelle difficoltà, Milano stasera era in difficoltà perché era senza opposto e durante la partita si è infortunato anche il palleggiatore, succede che il gruppo si unisce maggiormente, così hanno fatto e noi non siamo stati bravi a reagire nell'immediato, ci abbiamo messo un po' però qualche conto alla fine è la vittoria finale. Al tie break però vincete sempre voi? Sì, vincere anche da tre punti ogni tanto non sarebbe male, però va bene anche così, ci accontentiamo.